attenzione attenzione il nostro astro microfono si è posato sul pianeta papalla distante dalla terra centomila anni luce l'eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla filco italiana qui papalla il pianeta del futuro a papalla il progresso e la scienza sono avanti di duemila anni rispetto alla terra gran festa oggi a papalla i papallesi sono gente allegra ogni pretesto è buono per cantare e ballare scusi sono un microfono terrestre permette una domanda cosa festeggiate oggi o festeggiamo la mietitura degli spacchetti venga fincafeteri la tutti i filari di maccheroni che crescono di due centimetri al secondo meraviglioso sa che sulla terra coltiviamo ancora il grano hai sentita luigi sono ancora al grano ma venga venga in casa accucciapito voi che siete così progrediti cosa fate di bello alla sera oh cari miei guardiamo filco come lei su mi accenda filco per favore anche sulla terra la filco è famosa per il progresso tecnico dei suoi elettrodomestici ecco filco bendix la lavatrice che si compra una volta sola e per sempre funziona sempre funziona sempre perché non è fatta solo di lamiera ma è costruita su un telaio d'acciaio filco bendix funziona sempre